Che ha questo ragazzo signore? E' malato? Cassi integrato Sant'iddio Detto c'è solo... c'è solo un cane di quelle Questo mese lavora Papini Eccola qui, la Santissima Termità Briscola Scope 3-7 Questo c'è il prosciutto, formaggio, salame e ciò e ciò e ciò e ciò Dossi italiani No Dio, non c'è la forma Devi mettere ordine nel caos